Un saluto dalla redazione Echo Reporters di Putifigari. Io sono Roberto Fuis e io Cristian Carta. Parliamo di plastica e di un sogno, quello di ripulire il mondo. Lely Plath ha 10 anni, vive in Olanda e dopo aver visto come i rifiuti plastici distruggono la natura, ha cominciato con il nonno e la mamma a pulire ogni giorno il suo quartiere. Grazie al suo impegno non solo raccoglie rifiuti, ma porta avanti delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione per amici e vicinato, che poi lo commenta in una pagina Facebook. I piccoli gesti che possono cambiare il mondo. I piccoli gesti che possono cambiare il mondo.